Como rischia di perdere lo status di stazione internazionale a vantaggio della vicina a Chiasso. Dal giugno 2014 i treni da Zurigo fermeranno solo nell'ultima stazione svizzera prima del confine, saltando il capologo lariano sulla via per Milano. Secondo un accordo tra Trinitalia e le ferrovie federali svizzere, si ridurranno da 14 a 2 gli Eurocity, da e verso Zurigo, che fermeranno a Como. Una vera e propria sostituzione dello scalo di Como con quello di Chiasso, per l'assessore ai trasporti del comune di Como, Daniela Gerosa, che ha chiesto chiaramente all'assessore regionale delle infrastrutture, Maurizio Del Tenno. Di declassamento ha parlato il consigliere regionale del PD, Luca Gaffuri, sollevando il rischio di ripercussioni pesanti sul turismo da e verso l'Europa. Pure i parlamentari comaschi del PD, Chiara Braga e Mauro Guerra, hanno presentato un'interrogazione urgente al ministro dei trasporti, per sapere dal governo cosa intende fare per garantire i collegamenti ferroviari. Saltare il capologo lariano vuol dire rispargnare tempo, passando per la galleria Monte Olimpino 2, riaperta dopo lunghi lavori di consolidamento, che da Chiasso porta direttamente sulla linea per Monza e Milano. Si concretizzerebbe così il vecchio progetto di metà anni 90 di una stazione unica a Chiasso, senza però un accordo con Como. Non si capisce poi il perché del declassamento a fronte di un piano di interventi di ben 4 milioni di euro. Dal 2013 al 2015, infatti, Rete Ferroviaria Italiana prevede di ristrutturare la stazione di Como San Giovanni, con anche l'abbattimento delle barriere architettoniche. Una prospettiva che non rassicura i comaschi sul futuro dei collegamenti internazionali e il turismo, il settore economico che si vorrebbe sviluppare sempre più, soprattutto in vista di Expo 2015. Da Como, Michele Donegana, Ecoinformazioni.